Ciao a tutti, oggi vi presento la canzone magnifico di Fedez. Durante la parte da lui rappata bisogna semplicemente fare un arpeggio, lo si sente chiaramente nella canzone, c'è un pianoforte che fa delle note che adesso vi mostrerò. Quando invece c'è la parte melodica, quella cantata da Francesca Michelin, grande attenzione alla melodia, all'espressività di questa bravissima cantante. Quindi buon divertimento con Magnifico di Fedez. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.